Focus, finestra aperta sul territorio. Abbiamo il piacere di avere oggi in studio il dottor Giuseppe Ferrera, direttore del Servizio Epidemiologia e Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Ragusa e componente dell'Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Ragusa per la Commissione Prevenzione. Abbiamo anche il piacere di avere in studio il dottor Giuseppe Ferrera, direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Ragusa. Bentrovati e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Grazie a voi. Padre Giorgio, parleremo oggi appunto un po' del vaccino antinfluenzale. Perché secondo lei ci sono così tante persone ancora scettiche? Cosa spaventa? Le persone scettiche, almeno io, che sono un po' da tempo immerso nello studio di internet e dei social network, purtroppo proviene tutto anche da questi canali. Sui social network, in particolare Facebook, si parla dei vaccini che sono dannosi, dei vaccini che hanno delle componenti anche animali. Poi sappiamo molto bene che c'è anche la componente vegana che attacca proprio in modo indicibile qualsiasi forma di vaccino. Penso che veramente i social network sono un veicolo di notizie, non solo sbagliate, ma anche danno delle ricette. Ecco, questo l'ha dimostrato l'ultimo convegno che abbiamo fatto sulle fake news, dove circola un po' dappertutto. Come pastorale della salute, quindi come diocesi, ovviamente noi siamo a favore pieno dei vaccini, anche perché il settore prevenzione è un settore che bisogna portare sempre avanti in qualsiasi ambito. Ora proviamo a pensare, visto che siamo in tema di vaccino antinfluenzale, a tutte le persone anziane, anche che sono a rischio, e se non vanno il vaccino, ma rischi seri, di questo ne parlerà il nostro carissimo dottor Giuseppe Ferrera. Ma una cosa che io dico sempre è quello di non prendere per vere, per reali, tutte quelle notizie che vanno a circolare su Facebook, perché credetemi è diventato ormai un contenitore non solo di notizie false, ma anche di rabbia, di rancore. Cioè, là c'è tutto, circola tutto. Mi ha molto amareggiato, per esempio, una falsa notizia sul pronto soccorso del civile di Ragusa, che era già stato trasferito, quando invece non era assolutamente vero, con grave disagio dei cittadini. La stessa cosa succede anche per i vaccini. Si danno delle informazioni, purtroppo, errate, e la gente prende però colato tutto quello che c'è sui social network. Io sono molto, ma molto contrario a questo, e quindi lo manifesto, lo dico, e invece andiamo direttamente dal medico di famiglia, che ci può dare tutte le informazioni che vogliamo. Poi c'è anche il servizio di epidemiologia, come giustamente è adesso la presenza del dottor Giuseppe Ferrera, e lasciamo perdere il famoso dottor Google, che risponde a tutto, dà ricette per tutto e rovina anche le persone. Scusate la puntualizzazione, però ci tenevo veramente a sottolinearlo. Dottor Ferrera, riguardo a questo argomento che abbiamo appena toccato, vuole aggiungere qualcosa a lei? Sì, no, dico che oggi ha detto delle belle cose il padre Giorgio. Oggi le società scientifiche si sono organizzate, e anche il Ministero della Salute, a mettere in rete dei siti che parlano dei vaccini in modo scientifico. E quindi c'è un sito vaccinarsi.it, e vaccinarsi anche in Sicilia, quindi basta cliccare, quindi chi è abituato a girare nel mondo di internet, cliccando vaccinarsi.sicilia.it, può avere notizie, ci sono anche delle fache, quindi fare domande, c'è un gruppo di pool, di specialisti, che possono rispondere a questa cosa. Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio.